La partita è condizionata pesantemente dai due gol e inizia la partita, insomma, trovarsi sotto su 2-0 dopo 15 minuti è pesante. Sì, sicuramente, è complicato la partita ma c'era ancora tempo, insomma, più che due gol il terzo gol ci ha tagliato le gambe. E' stato preso anche in un momento appunto che non eravamo a fine partita quindi magari si poteva non beccare il contropiede e cercare di stare un po' più attento, no? Sì, sì, bisogna... un po' più di pazienza in alcuni momenti della gara, però, insomma, è il nostro modo di essere questo. Noi giochiamo sempre per fare la partita, per provare a vincere e quindi alziamo tutta la squadra. E' chiaro che qualche ripartenza la dobbiamo concedere agli avversari. Oggi purtroppo abbiamo preso troppi gol, insomma. Sì, soprattutto la difesa ha reso meno rispetto al solito. Comunque avete perso contro una squadra di alta classifica. Non sono problemi complessivi, non è un problema di difesa, è un problema di squadra, insomma, si difende tutti insieme e si attacca tutti insieme. Dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorarci, insomma, siamo qui per questo. Quindi non credo che ci sia niente di compromesso, insomma. Ecco, Big Match di Areggio-Ponsacca è finito con un pareggio, quindi è una sconfitta che fa male, però non peggiore più di tanto la classifica. Non abbiamo perso troppi punti. Solo un punto dal Ponsacca. Sì, sì, in una classifica, insomma, siamo lì a lottare con tutti gli altri. Sapevamo che è una partita difficile con una squadra che gioca lì, gioca lì in difesa e riparte con questi giocatori veloci davanti. Insomma, noi dovevamo sicuramente fare meglio. Il mercato è iniziato, sono andati via quattro giocatori. Poi c'è bisogno comunque a cento campi in attacco, anche perché comunque il campionato va avanti, due partite le avete ancora prima della sosta. Sì, sì, sono usciti un po' di giocatori, insomma, sicuramente qualcuno deve arrivare. A livello numerico. Ma per questo c'è la società che sta lavorando per questo. Grazie.